Allora, in questo momento abbiamo più di 600 pazienti ricoverati nella nostra organizzazione. È un'organizzazione basata su sette ospedali. Stiamo ricoverando per intensità di cura le varie tipologie dei pazienti. I pronti soccorso, perché sono diversi nella nostra azienda, stanno accogliendo tutti i pazienti con ordine. Abbiamo sì un'intensità importante di afflusso di pazienti, ma vengono tutti gestiti con ordine e con metodo. Abbiamo conservato, tanto per dare l'unità di misura, l'80% dell'attività ambulatoriale, per cui questo è un grandissimo risultato grazie ai nostri professionisti che si stanno impegnando giorni e notte per supportarci in questo tipo di attività. È una strategia che è stata studiata durante il periodo estivo, la stiamo mettendo a frutto. Sicuramente è impegnativa, ma ci sta dando dei risultati sicuramente molto importanti.